eccoci qui siamo col dottor mora di genova e al quale appunto poniamo questa domanda cosa sente di aver ottenuto con dentalid ed eventualmente rispetto ad altri corsi che cosa è nota di differente se ha avuto altre esperienze con altre realtà ciao a tutti principalmente ho ottenuto un grossissimo cambiamento di me stesso facendo questo corso ho sicuramente implementato maggiore conoscenza di me e di come gestire emozionalmente me stesso nel mio studio principalmente principalmente ho lavorato tantissimo su me stesso grazie a dentalid mi ha fatto scoprire veramente un nuovo percorso per la mia pratica quotidiana cambiare me stesso sono riuscito a cambiare tutti i miei collaboratori e tutti i miei diciamo tutte le persone che che gravitano intorno a me sia a livello professionale che a livello diciamo familiare quindi è stato veramente un percorso molto produttivo per quello che mi riguarda a livello di risultati e risultati risultati sicuramente i risultati sono migliorati in maniera esponenziale ho raddoppiato se non triplicato il fatturato ma principalmente però è stato veramente il punto tantissimo su me stesso e hanno cambiato me hanno cambiato cioè tutto il percorso che ho fatto se non cambio io non posso aspettare alla finestra che qualcuno mi venga a bussare e mi dica che il fatturato ti triplica ti quadruplica se non cambi te tutto rimane come prima in stasi perfetto grazie dottore buona giornata grazie mille grazie mille Grazie a tutti.